Come se la cassa della Lega fosse un salvadanaio di famiglia. Nel fascicolo agli atti dell'inchiesta su The Family c'è una lettera scritta a Bel Sito, l'ex tesoriere da Riccardo Bossi, il primo genito del Senatur. Riccardo fa il conto dei soldi di cui aveva bisogno ancora tre mesi fa. Scrive a Bel Sito pagamenti cui devo far fronte al 31 gennaio 2011. Riccardo Bossi elenca, ultimo pagamento noleggio Clio 981 euro, saldare in contanti multe arrivate a oggi 1857 euro, noleggio altra auto, una è dal carrozziere 5175 più 7450, fa 12625, saldare lavoro di carrozzeria 3900 euro, poi altre spese. Alla fine Riccardo ringrazia, grazie mille per tutto quello che stai facendo e sono a tua completa disposizione per ogni approfondimento che ritieni necessario. Dunque era Riccardo Bossi che chiedeva i soldi direttamente a Bel Sito e diventa praticamente impossibile la linea di difesa di non sapevo da dove venissero i denari, usciti probabilmente dal tesoro dei rimborsi elettorali. Per Riccardo e anche Renzo Bossi ci sarebbero stati direttamente dei prelievi dalla cassa del partito. Oggi pomeriggio in procura a Milano i pubblici ministeri che indagano su The Family hanno tenuto un vertice, serviva per fare il punto sulle iscrizioni nel registro degli indagati. Gli avvisi di garanzia partiranno la prossima settimana. I due figli di Bossi sono più che a rischio. Renzo oggi ha fatto una dichiarazione all'agenzia ANSA per dire che si dissocia dal diploma di laurea albanese col suo nome e la sua foto. Non sono mai stato in Albania, non ero a conoscenza del documento. E Umberto e sua moglie Manuela Marrone che secondo i verbali di interrogatorio di Nadia D'Agrada impiegata amministrativa del partito avrebbe avuto 900 mila euro per la scuola Bosina che dirige a Varese finiranno sotto inchiesta? È probabile che il senatur alla fine resti fuori. Al palazzo di giustizia se la cavano con una battuta. Il re di solito non si occupa dell'acquisto degli asciugamani. Sulla Marrone i magistrati ci vanno con i piedi di piombo. Bisogna capire se una scuola anche per bambini possa avere una finalità ideologico-politica. In questo caso il finanziamento della Bosina rientrerebbe nella normalità delle spese di un partito. Nel registro degli indagati potrebbe finire anche il senatore Stiffoni già espulso dalla Lega. Per lui soltanto che ha comprato 200 mila euro di diamanti l'accusa sarebbe peculato. Agli altri sarebbe contestata l'appropriazione in debita o anche la malversazione ai danni dello Stato perché a bilancio risulta un milione e mezzo di euro stanziati per le quote rosa in politica e che non si sa invece dove siano andati a finire.